Prendere la bici, assicurarsi che tutto sia a posto, gomme, freni, campanello, casco compreso e poi pedalare! Prendere la bici, assicurarsi che tutto sia, che bicicletta usi se sei giovane, atletico o mingherlino. Usa la bici, scegli tra 41 itinerari ciclabili quello che fa per te. Parchi e riserve naturali, castelli e residenze storiche, laghi e corsi d'acqua, borghi e tranquille campagne. 900 chilometri di percorsi selezionati per tutte le gambe. Puoi scaricare gratuitamente i file GPX dei tracciati e le guide complete degli itinerari ciclabili sul sito cittametropolitana.torino.it Grazie a tutti! Grazie a tutti!